Gentili telespettatori, buona giornata. Oggi ho parlato con un netturbino, operatore ecologico, come cavolo devo chiamare chi fa questo lavoro? Sapete che è politicamente corretto, ogni tot anni cambia i nomi e i lavori perché diventano non più... lo spazzino non si può più dire. Perché? Non lo so esattamente. Operatore ecologico? No, poi netturbino non basta, dopo spazzino netturbino no. Operatore ecologico è ancora attivo? Si può ancora dire operatore ecologico o adesso c'è già un altro nome? Comunque ci siamo capiti con una persona che si occupa di nettezza urbana, pulisce le strade, raccoglie la spazzatura e lavora a Lama. Attualmente lavora ancora a Lama e ha lavorato per otto anni qui ad Ostia, adesso lavora in un altro comune facente parte qui della città metropolitana. Sapete che c'è comune numero 8, 9, 10, municipio 10, per esempio il municipio 10 e il municipio di Ostia. Io ho detto senti ma come funziona? Perché parlano tutti male di questa Ama, mi dice guarda ti parlo di una classica truffa che facevano i dipendenti, quelli che guidano il camion della nettezza urbana, che cosa facevano? andavano al benzinaio, c'è 80 euro di, come andranno lì a diesel, 80 euro di rifornimento, poi gli dicevano al benzinaio, senti, tu mettine 50, 60, metti 60 euro, quei 20 euro, me ne dai 15 in contanti e 5 te li tieni tu. Vedi capito la truffa? Mi metti nel serbatoio al posto che 80 euro me ne metti 60, ci sono 20 euro di differenza, non me li puoi dare tutti perché sennò tu benzinaio che ci guadagni, dammene 15 in contanti che me li metto in tasca e i 5 te li tieni tu e siamo tutti contenti. Però questo mi dice adesso non lo possono fare più, non lo possono fare più perché ci sono le telecamere, non ho capito se nei benzinaio o sui camion, ci sono le telecamere, adesso questa truffa non si può fare più. E poi mi raccontava che più in alto si va e più ci si guadagna, nel senso che le ruberie all'interno del lama erano a livelli, cioè tu più vai in alto e più rubi, più hai un lavoro all'interno della società di livello più basso meno rubi. Mi parlava di 2000 euro, un importo medio di 2000 euro di ruberie. Mi ha fatto capire anche che essendo una partecipata, non un'azienda statale ma una municipalizzata partecipata, alla fine ci sono pochi controlli. Mi ha detto anche che la gente timbrava sul lavoro e poi in realtà non andava a lavorare, d'accordo con questo, una volta lo faccio io, una volta lo fai tu, il capo lo sa, una volta lo fa il capo. Ecco, insomma, mi dice questo signore, incontrato per sbaglio, che mi ha riconosciuto, ci siamo presi un caffè ad Ostia Antica l'altra sera e mi ha raccontato proprio, quando mi ha detto io faccio questo lavoro qui, mi ha detto ma raccontami un po', si parla sempre male di quest'ama, ma è vero quello che si dice? E lui mi ha detto praticamente che all'interno le ruberie sono tantissime e che la voglia di lavorare, insomma, saltami addosso, perché è un'azienda municipalizzata e questo mi ha raccontato. Io lo sapevo già, però l'ho sempre letto sui giornali, è la prima volta che lo sento raccontato da una persona che proprio, lui che cosa faceva? Lui è quello sui camion che svuota proprio i bidoni della spazzatura, ecco, quello che proprio nell'ama, proprio quello che materialmente raccoglie la spazzatura. Bene, naturalmente quello della truffa, della benzina è un qualcosa che si utilizza anche, lo fanno anche in molte aziende italiane, è una delle truffe più classiche, no? Quelli che hanno la macchina aziendale vanno dal benzinaio e gli dicono, senti, al posto che mettermi 80 euro, mettimene 60, al resto ce lo dividiamo, eh? Poi questi con la macchina aziendale cercano di andare molto piano per far consumare poco alla macchina e non farlo vedere all'azienda, perché poi ci sono le aziende che cominciano a fare il calcolo di quanto consuma al chilometro la macchina. Mi ricordo un caso, perché io lavoravo in un'azienda dove avevano contestato a un mio collega, che aveva la macchina aziendale, che consumava troppo quella macchina, c'era qualcosa di strano. Quindi insinuavano che si fregasse la benzina col giochino che vi dicevo prima. In realtà lui mi dice, ma io sono uno che tiene sempre l'aria condizionata accesa e poi io sono uno di quelli che accelero, insomma, ho una guida abbastanza sportiva e la macchina consuma di più e l'azienda quel consumare di più lo vede come qualcosa di strano, ci stai fregando la benzina, no? Qui consuma troppo, vuol dire che non ci stai mettendo dentro i litri giusti, te li stai fregando, perché c'è chi si fa dare i soldi dal benzinaio e chi invece va lì con una tannica e gli dice, guarda, quei 20 euro riempimeli nella tannica, poi li porta a casa, li mette nella macchina della moglie, nella macchina del figlio o li usa per il fine settimana. Ecco, insomma, vi ho voluto raccontare anche questo spaccato di società, diciamo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.